il buco nero fotografato dalla nasa dalla comunità scientifica a 55 milioni di distanza 55 milioni di metri di chilometri 55 milioni di anni luce ma quando è stata distanza si può sapere però io mi chiedo una cosa ma sta distanza di entra nella dimensione dell'universo quanto è grande l'universo allora facciamo così stabiliamo innanzitutto quanti anni ha l'universo 13 miliardi virgolo 80 quasi 14 miliardi di anni dal big bang ovviamente il big bang è quella famosa esplosione nell'esplosione c'è una costante di estensione quindi di espansione vuol dire con la botta con quella velocità viaggia e si allarga ora quanto percorre l'espansione dell'universo in un anno o meglio ancora a che velocità si espande si espande a questa velocità l'universo 73,2 chilometri al secondo cioè veloce il che vuol dire che io devo calcolare in un anno che distanza riesce a percorrere questa espansione dell'universo di quando si allunga ogni anno di quando si allunga il raggio ok questo è il big bang e qui c'è il raggio quindi tutto in torre c'è il raggio ok in un anno mi basta un anno perché poi vi spiego allora 73,2 è un secondo chilometri allora faccio 73,2 moltiplicato 60 e saprò quanti chilometri fai in un minuto quindi ancora per 60 e avrò l'ora quindi poi per 24 e avrò quanti chilometri percorre in un giorno poi lo moltiplicherò per 365,25 e saprò quanti chilometri percorre l'universo in un anno ok con la sua velocità e viene fuori questo ora che faccio io? ho un anno di percorso cioè ho un percorso legato in chilometri l'universo è quanto percorsi ora che vuol dire che quella distanza lì del buco nero deve rientrare in 13,82 miliardi deve rientrare di anni percorsi a questa velocità capite? alla velocità di espansione allora che faccio? calcolare il buco nero con lo stesso sistema il buco nero ha la velocità della luce però è arrivata la foto la velocità della luce corrisponde a circa 300.000 chilometri al secondo allora è molto più 300.000 chilometri per 60 per 60 è un'ora per 24 è un giorno per 365,5 è un anno e questa quota qui di un anno luce lo motivico per 55.000 euro e ho questo risultato ora che devo fare? devo sapere questa distanza qui correndo alla velocità dell'espansione dell'universo quanto tempo ci impiega? il buco nero rientra nei 13 miliardi? capite? di anni siamo parlando ok, allora che faccio? rivedendo questo per un anno di questa velocità io saprò quanti anni ci vogliono per arrivare al buco nero con questa velocità costante con la costante di espansione non ha capite? ne viene fuori una somma eccola qui come potete vedere è molto più grande con la dimensione cioè qua mi sta dicendo che l'universo con la sua velocità di espansione per arrivare a 55 milioni di anni luce deve percorrere più di 225 miliardi di anni a quella velocità di costante di espansione quindi è molto lontano se l'universo c'è soltanto 14 miliardi come fa che il buco nero sta 225 miliardi di anni lontano? è assurdo è una palla ragazzi fidatevi poi se c'è qualche esperto che mi sa spiegare due errori benvenuti